La sala della muta del Palazzo Ducale di Camerino ha ospitato nei giorni scorsi il primo commegno nazionale Camerino Cuore dal titolo Dalla Emergenza alla Cardiologia Clinica e Preventiva. I lavori si sono aperti con i saluti del Rettore Unican Flavio Curradini, del Sindaco di Camerino Gianluca Pasco e dell'Arcivescovo Francesco Giovanni Brugnaro. Il convegno è stato organizzato dal Comitato dell'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale di Camerino con la Presidenza del Direttore, il Primario Dottor Umberto Berrettini, in collaborazione con l'Ateneo Camerte, il Comune e l'Asur Marche Area Vasta 3. Nelle due giornate di lavori sono intervenuti oltre 45 relatori che hanno relazionato su tematiche quali cardiopatia ischemica, aritmie, scompenso cardiaco, cardiologia degli ambienti straordinari, ottimizzazione dei fattori di rischio e loro trattamento, morte cardiaca improvvisa nell'attività fisica.